Al Grande Fratello regna la disumanità Beatrice Luzzi lascia la casa di Grande Fratello per motivi personali Beatrice Luzzi ha lasciato la casa per un lutto La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Beatrice in questo momento di grande dolore Alcuni concorrenti non hanno avuto empatia Non ci possono vedere un film, magari un comico Ci sono stati dei comportamenti che hanno fatto indignare il pubblico Non si può niente a fermare un programma televisivo Lo stai guardando? Guardate un secondo quello Lui a me mi fa veramente, per me lui è squallido Ciao scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome Benvenuti in questo nuovo nuovissimo video dedicato al Grande Fratello Al Grande Fratello regna la disumanità Sarà vero? Sarà falso? O sarà che certe persone fanno schifo al c***o? Prima di iniziare però come sempre vi ricordo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina Cliccate anche quella per non perdervi tutto quanto gossip drama e il meglio anche il peggio del Grande Fratello Vi ricordo poi anche di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Fabrizio Valerio Ed ovviamente anche su TikTok dove sono sempre Fabrizio Valerio Ed eccoci qua ragazzi, nuovo anno, nuove notizie super super shock Che vi devo raccontare e che soprattutto devo commentare insieme a voi Prima di iniziare il video di oggi però occorre fare un'apertura diversa dal solito Proprio perché voglio mandare un grandissimo abbraccio a Beatrice Luzzi A tutta la sua famiglia, ai suoi cari, ai suoi amici Insomma a tutte le persone che erano lì vicine a lei e al suo papà che non c'è più Quindi veramente sentite condoglianze Beatrice a tutti i suoi cari Oggi dopo giorni, mesi, anni torniamo a parlare del Grande Fratello Il reality più discusso in questi ultimi giorni È da poco iniziato il 2024, questo nuovo anno E già ci sono mille polemiche sulla casa più spiata d'Italia Il motivo è molto semplice Beatrice Luzzi in questi ultimi giorni ha lasciato la casa E diciamo che assieme al suo ritiro O comunque presunto ritiro Sono scoppiate mille mille polemiche Tutto incomincia qualche settimana fa Poco prima di Natale Nel momento in cui Beatrice Luzzi viene informata Dalla produzione del Grande Fratello Che suo padre insomma sta male Ha un problema di salute Per questo motivo temporaneamente Beatrice Luzzi lascia la casa Va dal papà, capisce che la situazione è abbastanza sotto controllo E rientra in gioco Questa cosa diciamo che va avanti fino all'inizio di quest'anno Qualche giorno fa, anzi proprio nella giornata di ieri Beatrice Luzzi abbandona la casa del Grande Fratello E noi lo sappiamo grazie ad un comunicato ufficiale fatto proprio dal Grande Fratello Che su Instagram pubblica esattamente questo Beatrice Luzzi lascia la casa di Grande Fratello per motivi personali Ed ovviamente questi motivi personali hanno subito incuriosito tutto il pubblico C'è infatti chi si è chiesto ma che motivi hanno spinto Beatrice a lasciare il gioco La risposta è molto semplice e purtroppo è anche molto brutta E arriva direttamente dalle pagine ufficiali di Beatrice Luzzi Infatti leggiamo testuali parole Questo comunicato a sfondo nero e viene detto Stanotte è venuto a mancare l'architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro E a tutti i familiari Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari Firmato lo staff Ed ovviamente c'è stata subito una polemica che secondo me è stata abbastanza fuori luogo Che riguarda il post pubblicato dal grande fratello Dove veniva detto per motivi personali Beatrice Luzzi lascia la casa Ora c'è chi si è attaccato a quel motivi personali Ma io credo che la scelta del grande fratello di non specificare Che Beatrice stava lasciando la casa per un lutto familiare Sia stata veramente molto delicata Perché non spetta al grande fratello dire se è venuto a mancare oppure no Un caro dei concorrenti all'interno della casa Sarà quel concorrente, il suo staff eccetera eccetera A comunicare la vera ragione appunto che sta dietro il ritiro O comunque l'abbandono del grande fratello E così infatti è stato Per questo motivo in un secondo momento il grande fratello Una volta resa pubblica la notizia del lutto del papà di Beatrice Ovviamente hanno subito condiviso sempre su Instagram un post Un post dove lanciano un grande abbraccio a Beatrice e tutta la sua famiglia Infatti c'è scritto la squadra di grande fratello Abbraccia forte Beatrice in questo momento di grande dolore E c'è di più Ovviamente sapete tutti che lunedì prossimo ci sarà una nuova puntata di grande fratello E c'era anche un televoto aperto dove c'era protagonista anche Beatrice Luzzi E viene scritto questo A causa dell'uscita di Beatrice Luzzi dalla casa di grande fratello Il televoto che vedeva coinvolti Monia, Federico, Beatrice e Rosanna È stato annullato Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata Verranno rimborsati Quindi insomma ovviamente dopo questa comunicazione di servizio Arriviamo al focus di questo video Un focus che riguarda il cast di quest'anno Che riguarda gli altri inquilini della casa del grande fratello Che ovviamente vengono subito informati del ritiro di Beatrice Luzzi E fate bene attenzione Perché sono state molteplici le reazioni a questa notizia E alla notizia del lutto in casa Luzzi Infatti adesso andremo a vedere, a capire Tutti quelli che sono stati comportamenti definiti veramente vergognosi Definiti irrispettosi e definiti disumani Da gran parte del pubblico di grande fratello Perché alcuni inquilini della casa del GF si sono comportati veramente molto male Iniziamo subito con quelle che sono state le esternazioni di Anita Che hanno fatto molto discutere Tantissime persone su Twitter infatti hanno bersagliato proprio Anita Per via di quello che sto per mostrarvi Ad un certo punto si parla del compleanno di Massimiliano Varrese Che ci sarà tra qualche giorno E c'è chi però dice Beh, vista la situazione forse non si festeggerà Forse slitterà questa festa Chi lo sa Bene, di fronte alla sola possibilità che questa festa non venga fatta Anita si lascia andare veramente ad un commento inopportuno Guardate Venerizio è la festa No, no, è la festa di Max È il compleanno quindi figurati No, no, si fa Si fa Ma c'è di più perché questa non empatia mostrata da Anita Diciamo che viene rimessa in gioco nel momento in cui si parla di aperitivi feste Che per via di questa notizia sono stati annullati proprio dal grande fratello Ad un certo punto lei parla addirittura di un film comico Di come passare queste giornate invece che passarle insomma in maniera triste Guardiamo insieme ed ascoltiamo insieme ciò che ha detto e poi lo commentiamo Guardate Quindi un film comico giusto Benvenuti al sud, benvenuti al nord per stemperare questa situazione Ma io credo che di fronte al lutto di una persona che fino a ieri conviveva con te in quella casa Forse sarebbe meglio tacere se non sia nulla di bello, di confortevole, di compassionevole da dire Forse sarebbe meglio tacere invece che chiedere anche di guardare dei film comici Non lo so ragazzi, a me queste parole, queste esternazioni hanno veramente fatto molto male Perché a parte che vengono da una persona molto giovane Cioè molto giovane, comunque alla mia età Quindi è anche una donna adulta Quello che veramente più mi ha sconvolto è come non ci sia veramente stato del rispetto e dell'empatia Per un dolore che una persona fino a ieri viveva con lei Questa è veramente una di quelle cose che mi ha lasciato senza parole Ma c'è di più perché ad un certo punto a far discutere sono state anche alcune risatine Alcune situazioni che si sono create sempre tra Anita e Garibaldi questa volta Ex, potremmo dire, di Beatrice Guardate E a buttare ulteriore benzina sul fuoco in tutta questa vicenda E' stato poi anche un video reso pubblico su Twitter Dove Garibaldi, riferendosi ad Anita e a questa situazione Le dice, beh è successa una cosa che ti piacerà Guardate Peppe, è la cosa che sappiamo già? Ah, ok Ora io non so se questa frase sia legata al fatto che Beatrice ha lasciato la casa E quindi è fuori dai giochi O se questa frase sia invece, come posso dire, connessa al lutto che ha subito Beatrice Mi auguro che sia ovviamente la prima opzione che vi ho detto E cioè che Garibaldi dicendo è una cosa che ti piacerà Intende dire che Beatrice ha lasciato la casa E quindi Anita adesso sarà contenta perché le due non andavano d'accordo Fatto sta comunque che secondo me non è stato carino E soprattutto queste risatine, queste cose insomma Non c'è limite al peggio e veramente non c'è limite al peggio Perché più avanti continueremo a parlare anche di Garibaldi E di ciò che ha fatto sempre nella giornata di ieri Nel momento in cui hanno saputo del lutto di Beatrice Luzzi Adesso però andiamo avanti perché nel mirino delle critiche C'è finita anche un'altra persona Stiamo parlando di Letizia Una ragazza che in queste ultime settimane Ci ha anche parlato ampiamente del suo dolore Del lutto del suo papà E forse in primis lei dovrebbe capire La gravità di questa situazione E soprattutto come ci si sente a perdere il papà Ed io ne parlo in questi termini Proprio perché anche io ho perso mio papà E mai mi permetterei di dire le cose che sono state dette in questi giorni Nei confronti di Beatrice e di questa situazione Di rispetto chiesta a gran voce Sia da parte del pubblico che da parte di alcuni inquilini Ecco Letizia Proprio perché vogliamo capirne qualcosa di più di ciò che pensa A più riprese Si è mostrata veramente senza alcuna empatia Infatti ad un certo punto parlando con Zia Fiorda Mentre si truccano lì davanti alla specchiera Si lascia andare ad una frase che ha veramente dell'incredibile Guardate Non si può neanche fermare un programma televisivo Si è vero il programma deve comunque andare avanti Lo sappiamo tutti nel mondo dello spettacolo È diciamo regina questa frase The show must go on Lo spettacolo deve continuare e continuerà Non è che hanno interrotto il grande fratello Perché Beatrice Luzzi è andata via dalla casa E ha avuto un lutto Non è successo ovviamente Ma sono state ridimensionate alcune cose Ad esempio delle feste in programma che c'erano lì all'interno della casa Sono state momentaneamente annullate Ed è proprio questo il focus di un'altra reazione che ha avuto proprio Letizia Perché di fronte a questo annullamento di feste e aperitivi Letizia dice beh insomma ma spero tanto che tutto questo cambi Altrimenti e adesso ascoltiamo quello che è stato il suo commento Fatemelo dire fuori luogo Guardate Spero perché se no ci spara Ed è proprio di fronte a questo genere di frasi Che a parlare è stata l'ex fidanzata di Letizia Nicole Che sotto il post di Alfonso Signorini del quale parleremo più avanti Ha detto questo Un applauso a Letizia che è l'unica che dovrebbe capire alla perfezione la situazione Ed è quella che ha fatto più schifo di tutti Ve lo avevo detto Sì perché non so se ve lo ricordate Ma l'ex fidanzata aveva pubblicato anche delle foto Dove insomma ci mostrava di essere stata picchiata O comunque schiaffeggiata proprio da Letizia Ma insomma questo è un altro argomento Almeno poi proprio il giorno che capita Cioè il rispetto in generale Ma non solo dalla Letizia In generale dagli altri Anche quell'altro che per me è la cosa più imbarazzante Che c'è dentro la casa Che bacia, lo schiaccianoci, fa tutto Cioè è stato proprio esagerato Cioè io veramente Io se fossi gli autori chiuderei questo edizione del grande fratello Secondo me Garibaldi ha proprio toppato Cioè ieri ha dato proprio il peggio di sé Assolutamente Lui a me mi fa veramente Per me lui è squallido Adesso focalizziamoci appunto su questo Una persona come Letizia Una persona che proprio in questi giorni Ha vissuto il ricordo del papà Che è venuto a mancare proprio il 31 dicembre di qualche anno fa Ecco la mancanza di empatia da parte di una persona che ha vissuto il tuo stesso lutto Secondo me è veramente una cosa inconcepibile È vero il dolore, il lutto Si vive molto personalmente Siamo tutti diversi Non è che uno vive il lutto allo stesso modo di un'altra persona Sicuramente però in questi casi Dovrebbe esserci un minimo Un minimo ragazzi di Come posso dire Veramente di rispetto umano Nei confronti di una persona che in questo momento ha perso un suo caro E parlando sempre di aperitivi Feste annullate dal grande fratello Guardiamo insieme ora Una conversazione avvenuta tra Perla e credo proprio Letizia o Anita Insomma si parla di cosa fare in questi giorni Visto che le feste non si faranno Sì ragazzi Guardiamo La sauna, tisanina, piscina, aicos in piscina Un po' di relax, una chiacchiera E qui gran parte del pubblico del web ha detto Ma insomma è morto il papà di Beatrice Luzzi Queste pensano a farsi la spa e a fumarsi le aicos In effetti ragazzi io sono rimasto abbastanza allibito di fronte al disinteresse proprio Cioè loro hanno anteposto sempre La loro voglia di fare gli aperitivi Le feste nella casa bla 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 Invece che magari prendersi veramente anche un momento e dire Cavolo questa persona che ha vissuto con noi Fino a poche ore fa ha perso il papà E noi siamo qui a lamentarci di un aperitivo Siamo abbastanza fuori luogo e qualcuno dovrebbe dirglielo forse E mi auguro che verrà detta questa cosa Ma ovviamente il nostro racconto non finisce qui Infatti nella serata di ieri hanno fatto largamente discutere dei canti, dei balli, delle risate Che sarebbero state fatte da Garibaldi, Anita e tante altre persone Insomma un clima quasi di festa all'interno della casa del grande fratello Dopo una notizia tanto grave come quella di un lutto subito da un concorrente che ha appena lasciato la casa Di fronte a questo genere di chiacchiericcio, divertimento e balli Ovviamente una persona che fino all'altro giorno era anche una sorta di antagonista di Beatrice Luzzi Sto parlando di Rosanna Fratello Si è vista veramente, cioè si è dimostrata schifata nei confronti delle persone Che ballavano, scherzavano, ridevano e cantavano in un momento così delicato C'è un video che ci mostra proprio come Rosanna dica insomma Shhh, fate silenzio, guardate Ah mamma mia, non ci si chiama Shhh, ragazzi E ad essere percepita come fuori luogo è anche una frase pronunciata da Massimiliano Varrese L'antagonista per eccellenza di Beatrice Luzzi Che si trovava da solo nella sua camera da letto e si è lasciato andare a questa dichiarazione Guardate Si direbbe Ah fio mio, la vita è una rota Direbbe non una volta Ovviamente i momenti discutibili di queste ultime ore all'interno della casa non finiscono qui Ad un certo punto infatti nonostante le continue richieste di portare rispetto alla situazione Pare proprio che qualcuno non abbia capito E questo qualcuno è Giuseppe Garibaldi Che in queste ultime ore si è lasciato andare a dei balli scatenati A dei limoni anche con uno schiaccianoci Guardiamo insieme alcuni estratti di queste ultime ore e poi li commentiamo Anche se dal mio punto di vista sono incommentabili Guardate Con 18 persone mi tocca parlare con lui Non è vero, io voglio vedere Stai facendo Greta Lo stai guardando? Guardate un secondo quello scelto La frase che più mi ha colpito è Ma con 18 persone in casa mi tocca ballare con lo schiaccianoci Beh io mi farei una domanda se tra 20 persone che sono all'interno della casa Nessuno abbia voglia di ballare, ridere, scherzare e cantare con te Forse c'è un discorso di rispetto Forse c'è un discorso di smettiamola di fare i pagliacci Perché una persona che ha vissuto con noi fino all'altro ieri è in un momento particolare Ecco forse doveva capire questo Garibaldi ma devo notare che dai suoi comportamenti assolutamente discutibili Non abbia capito la gravità di quel momento E soprattutto il fatto di portare rispetto ad una persona che addirittura lui diceva di amare, di voler bene Beh se questo è voler bene ragazzi io preferisco non avere a che fare con persone di questo tipo Ed è proprio di fronte a queste immagini, di fronte alle immagini di Garibaldi che balla e bacia uno schiaccianoci Che un ex GFina decide di rispondere, di dire la sua Stiamo parlando di Valentina che è stata eliminata al televoto proprio contro Garibaldi Ascoltiamo insieme quelle che sono state le sue parole e poi le commentiamo Guardate Direzione montagna pronta per andare a far ossigenare il cervello perché io ne ho bisogno Io che sono uscita al televoto con una persona che ieri sera stava limonando con uno schiaccianoci La sera in cui è morto il papà di una concorrente Così io me lo meritavo sicuramente e sono qui a rosicare forse sì forse no chi può dirlo Ed in effetti come dare torto a lei, a Valentina che è rimasta abbastanza allibita di fronte ai comportamenti di Garibaldi E chissà, speriamo che verrà detto qualcosa nella prossima puntata, non lo so Fatto sta che questo era un mega riassunto di tutti i comportamenti molto discutibili Molto vergognosi, definiti vergognosi dal popolo del web Degli inquilini della casa del grande fratello dopo aver saputo del lutto subito da Beatrice Luzzi Quindi insomma queste sono le reazioni che più hanno indignato il popolo del web Ma fatemelo dire perché è necessario dirlo ed è giusto dirlo Altre persone all'interno della casa si sono dimostrate molto vicine a Beatrice E le hanno dimostrato del bene Sto parlando di Fiordaliso che ha fatto un discorso a tavola con tutti quanti Sto parlando di Vittorio che si è lasciato andare veramente ad un pianto addirotto C'è chi comunque ha voluto mandare un abbraccio seppur virtuale seppur a distanza a Beatrice Luzzi E questo è molto bello da vedere perché fortunatamente all'interno della casa del grande fratello Non c'è solo disumanità ma c'è anche qualcuno che sa la parola rispetto Che conosce il significato della parola rispetto e fortunatamente ce lo hanno dimostrato Detto questo ovviamente a parlare finalmente anche il padrone di casa Il padrone di questo programma televisivo stiamo parlando di Alfonso Signorini Che proprio su Instagram ha detto questo sia nelle sue stories che con un post Pubblica innanzitutto la foto di Natale con tutto il cast al completo e dice La mancanza di empatia dimostrata quest'oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole E ovviamente dice anche a lunedì Questo a lunedì finale ci fa molto riflettere ci fa dire bene Questo vuol dire che nella puntata che vedremo l'8 gennaio qualcuno dirà qualcosa Alfonso Signorini bacchetterà gli inquilini che si sono comportati in maniera discutibile Spero tanto di sì e spero anche che vengano presi dei provvedimenti Perché non è possibile che passi un messaggio del genere Che passi il messaggio di quasi deridere un momento così delicato Un momento così serio e buio che sta affrontando una persona E non una persona qualsiasi ma parliamo appunto di una compagna di viaggio Che ha lasciato la casa perché le è morto il padre Quindi sì occorre dirlo zero zero empatia da parte di alcuni concorrenti di questo grande fratello E fatemelo dire ad un certo punto c'è chi anche sui social ha pensato nel passato A come sia stato invece bello vedere la vicinanza di un cast completo Ad una persona che aveva appena subito un lutto Stiamo parlando di Diane Mello Non so se vi ricordate l'edizione iconica con Tommaso Zorzi, Diane In quella occasione c'era una spaccatura nella casa Perché si sa no? Diane aveva tantissime persone contro Eppure in quel momento, nel momento in cui ha perso suo fratello Mentre era all'interno della casa C'è stata un'ondata di affetto Un'ondata di solidarietà ma veramente di affetto Perché hanno queste immagini, questi abbracci Queste persone che erano vicine a Diane Le lanterne, le candele accese Insomma veramente è stato fatto di tutto Proprio perché Diane in quel momento aveva bisogno di una famiglia Essendo la sua famiglia lontana Era lì all'interno della casa E gli affetti li ha ritrovati Quindi insomma c'è chi appunto ha detto Ma com'è possibile, no? Che questo cast che doveva risollevare l'immagine di questo programma Sia scaduto in questo modo Cioè scaduto proprio nel non rispetto Nella non empatia Nella disumanità E fatemelo dire Purtroppo è questo quello che è successo Ed è proprio Diane Mello che ha deciso di lanciare un grande abbraccio Proprio a Beatrice Luzzi E dice Non conosco Beatrice Luzzi ma conosco bene il suo dolore E le sono sinceramente vicina con tutto il mio cuore Lei però non è l'unica Non è l'unica ad aver detto la sua su questo caso Infatti un'altra ex GFina del grande fratello VIP Stiamo parlando di Adriana Volpe Ha voluto lasciare un suo messaggio Perché anche lei dal canto suo Aveva vissuto un momento simile Lei ha lasciato la casa del grande fratello Perché era venuto a mancare il suo suocero E dice Condoglianze Beatrice Per tutti sei la vincitrice morale di questa edizione L'unica che non si è piegata alle cattiverie E alle angherie gratuite Ed è effettivamente vero Beatrice Luzzi a prescindere da questo ritiro E insomma dal lutto che ha subito È effettivamente la vincitrice di questo grande fratello E siamo quasi tutti d'accordo E alla luce di tutto quello che vi ho raccontato E che abbiamo visto insieme Mi sento di dire una cosa Se questa edizione avrebbe dovuto risollevare Per così dire Le sorti di questo programma Con un cast bello Con un cast che doveva essere un abbraccio Da parte del pubblico Ecco effettivamente non è stato così Questo cast è un ennesimo buco nell'acqua Queste persone che si sono comportate in questo modo Sono degli esempi veramente brutti Orrendi E purtroppo sono lo specchio della società ragazzi Perché anche al di fuori della casa del grande fratello C'è chi gioisce Chi se ne frega Del lutto di una persona Basti pensare Non so se vi ricordate Maurizio Costanzo Lì c'era la sua bara Le persone pensavano a farsi il selfie con Maria De Filippi Insomma e potremmo andare avanti con tantissimi altri esempi Questo per dire che cosa Che purtroppo il non rispetto La disumanità è radicata fortemente nella nostra società E anche all'interno della casa del grande fratello Ne abbiamo avuto la dimostrazione Sono stati poi pubblicati dei video Delle clip dove anche queste stesse persone Che si sono comportate malissimo Poi hanno insomma detto No ma io voglio bene a Beatrice L'abbraccio di qui di là Ma io credo che le prime reazioni siano quelle vere Anche perché se gli autori Hanno detto qualcosa Questi ragazzi del tipo Smettetela di fare i pagliacci E dispiacetevi un po' per Beatrice Beh queste non sono reazioni venute dal cuore Ma consigliate dagli autori Se hanno parlato gli autori ovviamente Detto questo aspetto però i vostri commenti qui sotto Se ne avete Se siete senza parole Fatemelo sapere comunque Perché insomma A rimanere senza parole Siamo stati veramente in tanti Il video finisce qui E spero che vi sia piaciuto Se è così lasciate un pollice in su Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto E qui sotto trovate tutti i miei social Dove potete seguirmi Io e Mark Vi salutiamo E noi ci vediamo in un prossimo video Vero Mark vai Saluta Mark Vabbè ragazzi Anche oggi noi ci abbiamo provato Ciao